Bell'Adriatico, tu sei il fiore, per te arancione, il tuo colore, che resta impresso in ogni cuore, tu sei la grande Palmense, Palmense, scendiamo in campo, Palmense, sei il nostro vanto, insieme siamo tutti eroi, comunque vada, vinciamo noi. Forza Palmense, alla vittoria, un'altra pagina della tua storia, di un libro enorme, pieno di gloria, tu sei la grande Palmense. Palmense, vieni a tifarci anche tu, Palmense, così saremo di più, insieme siamo più forti e poi comunque vada, vinciamo noi, comunque vada, vinciamo noi. Sì! 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 Sei la grande palmezze, palmezze, palmezze. Comunque vada, vinciamo noi, comunque vada, vinciamo noi. Grande Lorenzo, bravo! Dell'Adriatico tu sei il fiore, per te non sollevano il tuo cuore. Resta impresso in ogni cuore, tu sei la grande palmezze. Palmezze, scendiamo in campo, palmezze, sei il nostro vantore. Insieme siamo tutti eroi, comunque vada, vinciamo noi. Forza palmezze, alla vittoria, un'altra pagina della tua storia. Di un libro enorme, pieno di gloria, tu sei la grande palmezze. Palmezze, vieni a tifarci anche tu, palmezze. Così saremo di più, insieme siamo più forti. E poi comunque vada, vinciamo noi, comunque vada, vinciamo noi. Vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi. Vinciamo noi, vinciamo noi, vinciamo noi. Vai, grini, bravo! Ciao, sono Davide Renzi, vengo dalla Civitanovese e sono pronto per questa nuova avventura e sono carico di una grande famiglia, una società seria con un ambiente tranquillo. Bene, quindi hai l'ambizione di difendere i colori della Palmenza, una società che ha 60 anni di storia e che aspetta sempre i bravi ragazzi come speriamo che... Come me! Diciamo che abbiamo assolto il nostro dovere, nel senso che era una partita da vincere, l'abbiamo fatta, nonostante la partita sia stata difficoltosa, sinceramente si sta andando molto fiducioso perché era una partita a cui tenevamo e ci siamo preparati bene per farla. Poi esistono degli episodi, ma comunque sì, ero convinto che la squadra comunque sia, fino alla fine avrebbe lottato per vincerla, quindi ovvio che abbiamo i nostri limiti, qualche rischio di troppo lo abbiamo corso, però ero convinto che la squadra avrebbe fatto una buona prestazione.